Salve amici del Centro Medio Italiano. Nuvolosità in aumento e piogge in arrivo su alcune regioni. Vediamo però nel dettaglio le previsioni per mercoledì 9 novembre. Piogge sparse al mattino soprattutto sulle Alpi Occidentali e Liguria e generalmente di debole e moderata intensità. Variabilità asciutta altrove con ampie schierite al sud. Al pomeriggio molte nuvole al nord con debole precipitazioni, specie a ridosso dei rilievi e fenomeni più intensi sulla Liguria. Tempo stabile al centro-sud. In serata e nottata ancora tempo instabile sulle regioni settentrionali con piogge ed acquazzoni sparsi. Deboli piogge in arrivo anche sull'Alta Toscana e variabilità asciutta altrove. Temperature minime, massime stazionarie o in generale lieve aumento. Per ulteriori dettagli seguite come sempre le previsioni aggiornate sia sul nostro sito che la nostra Capp Meteo. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano.